Le fiere servono per sponsorizzare il proprio lavoro e anche di vento, perché se ogni artiste ne ha bisogno di sopravvivere. È sempre una bellissima occasione esporre alla fiera di Mologna perché è un posto che comunque viene visitato da tanta gente, quindi è veramente una bellissima vetrina e sono molto contenta di questa occasione che mi è stata data. Se i risultati sono quelli degli ultimi anni, dove c'è stato un trend positivo anche crescente, devo dire, conviene, nel senso che sono investimenti importanti, è una fiera ai suoi posti come tutte, che ci permette però, incrociando le dita, di rientrare bene nelle spese e di acquisire anche poi dei fondi per poterci permettere di lavorare per tutto l'anno quasi, quando va, come deve andare, per cui speriamo che si confermi questa tendenza in tutti i tempi. Essere ad Articiera oggi vuol dire tanto per un giovane, vuol dire sicuramente crescita, vuol dire approccio ad un nuovo mondo, che fino ad oggi è comunque un risultato un po' difficile, però finalmente siamo riusciti, con questa importante iniziativa da parte della Fondazione Mizzoukeli, ad essere qui presenti, a portare avanti quella che è la nostra creatività, la nostra voglia di essere, di fare, di creare, senza nessuna timura. Grazie.